ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato come va oggi notizia gioia torna ma ora che ormai la rubrica ormai è diventata la favorita degli utenti di scazzo moderato ovvero fai il democratico finisci sull'astrico oggi parliamo di una rivista di cui avevo già parlato tempo fa non mi ricordo se un anno fa quando è stato due anni fa che si chiama sport illustrated non so se la conoscete in america è famosissima ovviamente è un magazine specializzato nello sport adesso stavo guardando e queste qui che sono le copertine del 2010 ok per esempio c'era questa qui una copertina in cui venivano e c'era la foto con mark walberg e christian bale che praticamente quell'anno è stato era stato rilasciato al film the fighter film molto bello che consiglio a tutti di vedere e poi c'è il football e poi c'è il basket ancora football baseball tutto quello che vi pare ok una rivista voglio dire dove con 70 anni di storia dove hanno veramente scritto i più importanti giornalisti sportivi della storia d'america ora sport illustrato è famosa anche non solo negli stati uniti ma a livello planetario perché una volta all'anno generalmente rilasciavano almeno un numero speciale dedicato ai costumi da bagno agli sport acquatici eccetera e per farlo si facevano sempre fare una copertina da qualche fotografo famoso con delle top model del pazzesche ok pensate che questa cosa va avanti dal 1967 e in realtà non era nata come idea basata su fare marketing perché comunque c'era una rivista di sport eseguita molto dagli uomini quindi magari se ci metti la modella bella no acchiappi l'occhio del maschio ma bensì semplicemente perché c'era un periodo dell'inverno in cui si erano accorti che visto il freddo eccetera non avevano niente di cui parlare fondamentalmente perché al tempo ancora magari c'erano meno sport al chiuso insomma in america poi nord america per lo più d'inverno fa un bel freddo e quindi per coprire i buchi semplicemente si erano inventati sta cosa di fare lo speciale sui costumi da bagno sull'estate eccetera e vi faccio vedere e qui viene mi permettetemi anche di essere insomma di far gioire di dare una doppia gioia all'occhio maschile ma comunque direi a tutti quelli che apprezzano tutto e la bellezza anzi proprio nel suo complesso ecco qui che ci vediamo per esempio ok questa è una modella che si chiama ashley montana poi abbiamo questa qui questa era barra raffaelli ve lo ricordate se non sbaglio è stata anche la fidanzata per un po di tempo di leonardo di caprio poi c'era per per essere inclusivi vi faccio vedere anche qualche bellezza colorata quindi abbiamo beyonce bellezza sconcertante questa è anche una una sicuramente si vede dallo stile della foto dalla grande della pellicola una foto piuttosto che qui abbiamo el mcpherson credo che lei abbia il record di cinque copertine sullo speciale sui costumi da bagno di sport illustrated irina shahik super mega top model e questa è tyra banks e rimango su tyra banks perché noi siamo anche più inclusivi più multiculturali più no più tutto più buononi come piace a una certa parte politica ora questo però era il passato perché anche tyra banks come beyonce rinforzavano gli stereotipi voluti dal suprematismo bianco perché la bellezza femminile secondo i fanatici walk è una cosa che anche quella a che fare col razismo perché è specifica delle donne è un tipo di bellezza che pertiene alle donne bianche non si sa quindi come da dove arrivano tyra banks beyonce e tutte le altre bellissime donne di qualsiasi altro colore ma vediamo come è virata la qualità delle modelle su sport illustrated negli ultimi anni allora eccola qua questa è una copertina di sport illustrata di un paio d'anni fa perché loro adesso per celebrare tutte le forme di bellezza ti mettono moby dick e scusate una modella asiatica dalle forme sicuramente pronunciate ecco anche questa bellezza incredibile guardate io proprio quando vedo queste pieghe così sensuali veramente mi brillano gli occhi andiamo avanti o no io ve le faccio vedere perché prima di tutto perché ho sofferto per fare questa raccolta di immagini quindi dovete soffrire con me secondo poi per capire c'è il livello da dove siamo partiti no e a dove siamo arrivati perché qui siamo partiti siamo partiti da qua ok siamo partiti da qua e siamo arrivati qua perché c'è gente in america che ti dice che questa è la vera bellezza delle donne di colore quindi tu per non essere razzista devi celebrare sta roba qua se ti piace biossè sei un trampista suprematista bianco se ti piace la colonna di cui non sappiamo nome non ci interessa niente allora sì che sei bravo come sei inclusivo se ti sei comprato lo speciale di sport illustrata con i costumi quando c'era questa donna qui ora andiamo avanti aspetta aspetta andiamo oh guarda quanto siamo inclusivi questa foto questo qui è un transo ok un transo anche lui bello cicciotto fra c'è neanche bello ok ciccio bello transo col seno rifatto che viene celebrato perché sono perché questa è la nuova bellezza di sport illustrata io direi walk illustrated questa è qui credo che chi magari ha buona memoria mi farà un attimo un ricordino credo di aver fatto un post proprio nel momento in cui sport illustrata pubblicava lo speciale sui costumi mettendoci questo trans qui ok poi cosa abbiamo vediamo un po continuiamo con questa bellezza a questo aspetta qui ci torno dopo eccola qui un'altra un'altra perché noi dobbiamo celebrare la body positivity no guarda qui quindi tu prendi un bello scaldabagno lo metti al tramonto gli metti i capelli e si è qui e diventiamo tutti più buoni ah questo è un altro transo anche questo mi sa che si era dimenticato di farsi i baffi quel giorno lì perché non è venuto bene però però è una donna perché il transo è sempre donna si dice che è una donna è donna anch'io se domani per dire benvenuti alla segna stampa di schiazza moderato oggi sono la donna voi tutti quanti nei commenti scrivete oggi ma come stavi bene oggi che bei capelli che avevi che trucco hai usato sei fora o sei fuori ok quindi questa è la nuova versione ecco questa qui è l'ultima copertina speciale costumi di sport illustrated del 2023 in cui hanno preso una signora tra l'altro molto più bella lei di tutto quello che abbiamo visto diciamo nella nuova ondata inclusiva di sport illustrated della signora che io direi avrà un 65 non lo so ditemi voi se siete bravi a valutare l'età delle donne non lo so sicuramente più di 60 adesso secondo voi quando si passa da qui da bar raffaeli ai trans o alle donne ah no aspetta 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 no questa la devo far vedere anche perché scusate mi avevo dimenticato una che assolutamente non può mancare che è lei allora questa qui è una rapper sboccacciata ok che per carità rispetto agli altri che hanno messo negli ultimi anni forse è anche la meno peggio il problema è che è la tipica rapper che è un esempio negativo per le donne cioè io ho sentito una canzone sua che ha due anni se non sbaglio che si chiama wet as pussy che tradotto in italiano vuol dire f***a fradicia in cui lei e un'altra cantante che si chiamano cardi b parlano solamente di sesso e del fatto che loro hanno la f***a fradicia brave brave poi vi lamentate se le comunità nere no? ah e le diciottenne che hanno già due o tre figli e vivono di assistenza sociale e non hanno un marito perché nessuno le aiuta a tirare sui tre figli eh sai com'è se idolatri le rapper che parlano solamente di sesso di darle in giro come se non ci fosse un domani perché tanto non succede niente e poi ti trovi le ragazzine piene di figli o che vanno avanti indietro dalle cliniche per abortire e magari avranno anche la f***a fradicia ma hanno anche un sacco di cicatrici che secondo me le cicatrici non fanno bene ma io sono un vecchio bigotto quindi lasciamola stare così ora andiamo alla notizia gioia la notizia gioia qual è? che come dice sempre zio scazzo se fai il democratico finisci sul lastrico questo è un articolo ma se ne possono trovare quanti ne volete i pubblicisti, gli editori di sport illustrated licenziano la maggior parte dello staff in un licenziamento generalizzato venerdì è stato notificato agli impiegati di sport illustrated sapete che un significante numero se non tutti gli impiegati se non tutti scusate le posizioni lavorative verranno eliminate pensate anche la bellezza delle risorse umane come riescono a indorarti la pillola in questa modo così non ti dicono tu sei licenziato ti dicono quel ruolo non esiste più in azienda ah tu fai quel ruolo lì? beh allora mi dispiace ma non devi venire perché non c'è quel ruolo e quel ruolo è tutti gli impiegati di sport illustrated adesso io la butto lì faccio un'ipotesi faccio un'ipotesi non nego che ovviamente anzi sicuramente ha una sua influenza anche il fatto che negli ultimi anni molta gente legge meno perché passa per tempo su internet quindi non vai a comprare il giornale la carta stampata sta soffrendo non c'è dubbio però il dubbio piccolino piccirillo piccino che forse una rivista di sport che quindi ha un immagino un 90% di acquirenti uomini si inizia a metterci donne brutte maschi signore rispettabilissime fra l'altro anche piuttosto piacenti per la loro età ma pur sempre anziane rispetto a prima quando c'erano delle modelle dalla bellezza devastante che ti escono gli occhi fuori dalle orbite forse anche quello qualcosina dice perché poi non è solamente la copertina in sé perché la copertina è un manifesto politico quando tu fai la foto a una donna sovrappeso a una rapper che incita le ragazze a fare praticamente le prostitute quando metti lì uomini col mascara e la panzetta spacciandoli per donne stai facendo un manifesto politico quindi non solo stai offendendo gli occhi ma stai offendendo anche la capacità di ragionamento o quantomeno i valori di tutti quelli che non credono in quella roba lì di tutti quelli che credono che il merito sia un'altra cosa che per andare in copertina devi meritartelo e meritarselo vuol dire farsi un mazzotanto in palestra avere la pancia piatta andare a correre la mattina a rinunciare alle uova e pancetta e magari rinunciare a quattro bicchieri di vino tutte le sere le modelle non sono bellissime per caso le modelle si fanno un mazzotanto quelle di una volta quelle di adesso invece vengono scelte in base al nome se ti fai chiamare Deboro e sei un transo allora puoi avere anche la panzetta e se le bruttare la finisci sulla copertina di Sport Illustrated secondo me qualcosa non ha funzionato in tutto questo e adesso ne pagano le conseguenze quindi continuate pure così continuate a bruciare soldi continuate ad autodistruggervi perché noi siamo contenti noi vi applaudiamo quando andate in bancarotta noi diciamo come come vi stimiamo voi così inclusivi che ci avete dato quelle bellissime foto ci avete fatto sentire persone migliori grazie grazie adesso andate pure anche voi alla Caritas insieme a tutti gli altri grazie andate continuate noi continueremo ad applaudirvi anche mentre siete a Chicago a meno dieci fuori al freddo coi guanti tagliati come come di Marsi all'inizio di una poltrona per due è tutto è tutto noi mondo del del buonismo saremo lì ad applaudire bravi poveri ma bravi è questo che vuole la sinistra e così sia poveri ma bravi e niente quindi anche oggi notizia gioia totale spero di avervi dato qualche informazione utile qualche spunto di riflessione come sempre se vi è piaciuto questo video date un bel cazzotone così alla Bud Spencer al pulsante mi piace detto questo ci vediamo al prossimo video state informati ciao ciao Grazie a tutti.